Cari amiche e cari amici, in un video precedente ho accennato alle analogie profonde che ci sono tra i vari gruppi satanici e quelle che vengono definite psicosette. E in realtà c'è una coincidenza proprio tra satanismo e psicosetta. In questo video vi spiegherò determinate dinamiche di manipolazione che sono utilizzate nelle psicosette e anche in maniera molto decisa nel satanismo. Perché esistono molti meccanismi di manipolazione mentale che utilizzano le guide spirituali nei gruppi satanici per sottomettere gli adepti e per creare uno stato di dipendenza sia rispetto al cosiddetto maestro spirituale o guida spirituale o santone, ci sono diversi modi di definirlo, ma un stato di dipendenza anche dal gruppo. E quello che spinge i manipolatori a mettere in atto questi processi nei malcapitati è proprio il dominio. E' attraverso il potere che acquisiscono su queste persone che questi delinquenti possono vedere soddisfatti anche obiettivi sia economici che sessuali. I manipolatori mentali si avvalgono proprio di tecniche di persuasione, le analizzeremo adesso, forti elementi di suggestione, anche l'ipnosi. L'ipnosi, guardate, non è necessariamente stati alterati di coscienza legati all'ipnosi. Non è necessario strettamente mettere l'ipnotizzato sul lettino. No, c'è un modo di suggestionare e far cadere in stati ipnotici. il proprio interlocutore, che i manipolatori sanno praticare molto bene. Anche perché da subito si instaura una relazione fortemente asimmetrica. Non ci può essere una relazione allo stesso livello, ad esempio del maestro satanista e con l'adepto della setta. Non ci può essere perché il pensiero e le idee del leader devono penetrare ed essere accolte poi nella mente degli adepti. Questo comporta necessariamente una relazione asimmetrica, dove il leader del gruppo è visto con un'aura di magnetismo, di magia. La manipolazione mentale consiste proprio in una serie di strategie che vengono applicate per distruggere l'identità del malcapitato che entra in una setta satanica, ma in modo generico nelle psicosette. E si instaura proprio una relazione di potere, perché l'essenza del controllo mentale consiste proprio nell'incoraggiare questa dipendenza con il leader della setta e gli altri componenti del gruppo. E per far questo però bisogna disinnescare l'autonomia della persona. Cosa intendo? Intendo che bisogna, ad esempio, ridurre il suo senso critico. Bisogna anche creare informazioni distorte nella mente degli manipolati, in modo che queste vengono accolte acriticamente, inserite proprio nella narrativa personale. Dopo vedremo anche come si agisce sulla memoria. C'è una sostituzione degli elementi della memoria autentici con la sostituzione con elementi voluti, immessi proprio nella memoria dal manipolatore. Ricordo l'intervista a un ragazzo del Forteto, adesso non ricordo se era del Forteto o di Bibiano, e comunque questo qui ricordava di essere stato nel cimitero a distruggere tombe con il papà e che lo aveva abusato sessualmente. E pensate che questo tipo di immaginazione distorta e totalmente falsa era stata immessa in questo poveretto proprio attraverso tecniche di manipolazione. E nei fatti, quando l'intervestatrice con molta delicatezza cercava di riportare alla memoria quello che realmente era successo, ebbene questo ragazzo non ce la faceva assolutamente, perché odiava totalmente il padre, perché aveva questo tipo di ricordo. E questo purtroppo è anche quello che sta accadendo nelle storiacce di Bibiano. Quindi il rapporto e la relazione tra il leader, il santone e l'addetto è fondamentale, caratterizzato, come ho detto, da asimmetria necessariamente, e soprattutto nel satanismo il leader si deve presentare con un'immagine di onnipotenza, perché è legato con il diavolo, con satana, con esperienze sovrannaturali. Quindi si propone come un risolutore che può risolvere il disagio esistenziale dell'addetto. Questo è come si propone. In realtà utilizza questo disagio esistenziale per, potremmo dire, robotizzare l'addetto, per cominciare a suggestionarlo e a manipolarlo perfino nei ricordi, come vi ho detto. Quindi bisogna inizialmente avere la fiducia del malcapitato, e il manipolatore diventa una fonte autorevole di informazioni che non deve essere messo in discussione. E in questo sarà aiutato anche dagli altri del gruppo che dipendono da lui. E quindi spontaneamente lo riconoscono come leader, come colui che ha il contatto diretto con satana. e in questo tipo di relazione e di comunicazione viene fatto largo uso di persuasione e di tecniche proprio persuasive che tendono a influenzare gli atteggiamenti, i comportamenti degli altri, sia in senso positivo che in senso negativo. E convincere gli altri è quello che in realtà comunemente facciamo tutti quanti. fate un attimo Mente Locale e vedete quante volte vi siete trovati, anche nella vostra stessa giornata, nella quotidianità, a voler convincere vostra moglie, vostro marito, vostro figlio di qualcosa. Quindi questa è qualcosa che accade abitualmente. Dunque, convincere gli altri è uno dei modi che gli esseri umani hanno in generale per relazionarsi con l'ambiente e con gli altri anche. Qui però chi vuol persuadere si inserisce anche in questa dinamica, perché una delle chiavi della persuasione è quella proprio di influenzare l'altro lasciandogli la sensazione di essere libero di scegliere. E questo è un elemento chiave della manipolazione mentale, perché il malcapitato ha in tutto e per tutto la sensazione di essere libero, quando non è affatto libero. Quindi gli obiettivi della persuasione, da questo punto di vista, sono graduali e non si discostano dal pensiero, quello che tecnicamente si chiama le mappe cognitivi del soggetto, cioè le convinzioni del soggetto, il suo modo di vedere le cose. E questo va cambiato un po' alla volta. Attraverso varie tecniche, per esempio la tecnica della confusione, che si basa ad introdurre un sovraccarico di informazioni che spesso sono in contrasto tra loro. E quindi la persona che vive questo stato d'animo interiore cercherà di risolvere questo conflitto cercando in qualche modo un significato coerente a quello che sta accadendo. Quando si entra in questa condizione di sovraesposizione di informazioni sono molto importanti anche i segnali non verbali e il manipolatore rafforza la simmetria nella relazione anche attraverso tutta una serie di manipolazioni come il guardare negli occhi nella persona mentre il manipolatore parla, ma poi guardare da altre parti quando parla l'altra persona. E questo aiuta a rinforzare la superiorità del manipolatore rispetto al manipolato. Oltre al fatto che nelle messe sataniche lo stesso fatto del vestirsi in un certo modo con dei mantelli e poi tutto il rituale è altamente suggestivo perché la suggestione è fondamentale. La suggestione è anche l'autosuggestione. Anche qui ci sono una serie di strategie perché gli adepti e gli iniziati al satanismo vengono inseriti in situazioni di gruppo che sono caratterizzate da forti ritualità. Ecco le messe nere, ecco i teschi, ecco lo sgozzamento degli animali, le orge a base di miscugli, di alcol e droga e tutta una serie di simbologie religiose che agiscono sull'inconscio. L'accesso a questi rituali è presentato oltretutto come riservato a pochi, come riservato a deletti, quindi come un privilegio e anche questo aiuta l'inclusione nel gruppo satanico perché la persona pensa di essere onorato di far parte di questa nuova elite e questo automaticamente lo distanzierà dalle sue amicizie, dai suoi familiari, da tutto ciò che è il mondo esterno. Nel satanismo si utilizzano moltissimo simbologie, metafore e parole per creare immagini mentali, per provocare stati di coscienza alterata che sono facilissime, ad esempio quando una persona è sotto effetto di stupefacenti. E poi la creazione di contesti altamente suggestivi, ecco la messa nera nella casa di Roccata, nel cimitero, e queste sono tutte condizioni anche di manipolazione perché inducono molto facilmente uno stato di transipnotica, in ogni caso inducono alterazioni delle state di coscienza che producono una diversa relazione con se stessi e con l'ambiente circostante. Quindi all'interno di questi gruppi satanici ci sono vari modi per alterare la coscienza. Vi accennavo in un video precedente al satanista che disse datemi un bambino di 13 anni, mettetelo a letto con due lesbiche e dipenderà totalmente poi la sua anima da noi. Quindi ci sono molti modi di produrre queste alterazioni di coscienza e di manipolare gli stati di coscienza. Questo della transipnotica che diviene molto molto facilitata facendo uso di stupefacenti. L'induzione poi di stati dissociativi perché questi aiutano proprio ad abbandonarsi con fiducia nella guida del leader. Immaginate l'occultista, il direttore spirituale satanico che sta lì vestito magari con un lungo abito con il cappuccio rosso e distinto dagli altri che magari sono vestiti di nero e formano un cerchio, c'è un fuoco, ci sono dei teschi. Tutto questo porta a indurre anche degli stati di dissociazione. Oltre al linguaggio, il tono di voce che il manipolatore sa gestire molto bene. Rituali satanici, messe nere, cerimonie, c'è sempre una sovrastimolazione dei sensi. Ad esempio, ottenuta prevalentemente con le droghe, con le orge, ma anche spesso con la musica, strumenti ritmici suonati ad alto volume o cori di voce con frasi evocative, con la ripetizione del nome di Satana e questo facilmente produce nel malcapitato degli stati di alterazione di coscienza. Quindi si mettono in atto delle vere e proprie tecniche psicologiche per ridurre la vigilanza, la sfera razionale e soprattutto la facoltà critica nei soggetti. per questo si favoriscono esperienze fuori dall'ordinario e nel satanismo sono proprio tipiche queste suggestioni profondi per indurre stati alterati di coscienza e sottolineo l'importanza delle sostanze psicotrope, non solo delle droghe comuni che si vendono clandestimanamente nelle nostre città, ma anche di sostanze psicotrope che magari si trovano in farmacia come tranquillanti, le benzodiazepine, sempre mischiate ad altro tipo di droga e ovviamente è facile a quel punto controllare il comportamento e anche il controllo del pensiero e delle emozioni e di conseguenza il controllo delle informazioni e qui avviene è il lato che a mio parere è tra i più inquietanti la manipolazione della memoria che è quello che hanno dovuto subire anche i bambini di Bibiano attraverso specifiche domande che gli psicologi facevano a questi bambini domande suggestive cioè domande che portavano il bambino a rispondere come voleva lo psicologo sono cose terribili sono vere e proprie forme di tortura che hanno attuato rispetto a bambini e quindi queste tecniche di controllo mentale hanno le fondamenta in quanto vi ho raccontato fino adesso e sono finalizzate a incidere in una maniera molto profonda proprio sul senso dell'identità della persona e questa è una cosa importante perché adesso anche nella globalizzazione e in tutto questo possibile gran reset che faranno ci tengono molto alla privazione dell'identità che è cominciata da anni con gli sbarchi con il cambiamento dei programmi scolastici e quindi la cancellazione di una storia insegnata recentemente e così via perché quando si cancellano le identità la persona è molto più suggestionabile e quindi la base teorica poi di queste componenti e di queste tecniche manipolative risiede in quella che Festinger chiamò la dissonanza cognitiva che vuol dire vuol dire che c'è una spinta in ciascuno di noi a creare una coerenza interna e quindi a collegare i pensieri nel modo più armonico possibile e comportamenti o emozioni anche che possono essere contrastanti e non si accordano con l'insieme creano appunto questa dissonanza cognitiva che comporta un disagio interiore che si tende a vorrei risolvere in qualche modo quindi se si induce una persona a cambiare il proprio comportamento questo cambierà anche i suoi pensieri i suoi sentimenti al fine di minimizzare questa dissonanza cognitiva che si è venuta a creare il controllo sul comportamento si rivolge alla realtà fisica di un individuo alle sue azioni e al contesto in cui si è inserito per cui accennavo nel video precedente che i bambini di Satana avevano fatto un patto tra loro di fare una cattiva azione al giorno e se alla sera ancora non l'avevano fatta dovevano sfondare un vetro o bucare la ruota di una macchina tutto questo lega con il gruppo e crea riordina la dissonanza cognitiva interna che è stata manipolata per cui a quel punto l'ordine si ristabilisce facendo del male invece ad esempio di fare del bene e quindi questo è un controllo che avviene attraverso che i satanisti fanno che vogliono applicare a ogni sfera della vita degli iniziati soprattutto negli aspetti intimi e psicofisiologici come il sonno il cibo l'abbigliamento se andate a vedere le foto appunto dei bambini di satana vedrete che c'era un certo tipo di abbigliamento se sentite nel processo le loro attività quotidiane si limitavano non necessariamente al momento delle messe nere no anche a una serie di rituali che si adottavano proprio nella vita quotidiana anche il bucare la ruota di una macchina ogni giorno diventa una forma di rituale e tutto questo fa parte di un indottrinamento del soggetto dove a questo si aggiungono anche delle tecniche specifiche di blocco del pensiero e quelle di cui vi parlerò non so se ve ne parlerò adesso o nel prossimo video di manipolazione della memoria quelle che personalmente mi hanno sempre più colpito anche perché i poveri bambini di Bibiano ricordavano degli episodi che erano stati indotti quindi ricordavano abusi cattiverie da parte dei propri genitori che non c'erano mai stati erano stati indotti da questi farabuti non è stato il livello di cattiveria umana a che punto può arrivare l'indottrinamento tra l'altro prevede l'acquisizione profonda non nei bambini nel caso degli adulti delle ideologie bisogna cambiare gli schemi precedentemente utilizzati dal soggetto e quindi ristrutturare tutto per ristrutturare una nuova visione del mondo all'insegna di Satana del satanismo e del male che diventa bene diventa elemento di potenza e quindi la dottrina acquista un atteggiamento di filtro potremmo dire della realtà perché la realtà viene filtrata sempre attraverso gli occhiali del male è un filtro che è indubbiamente totalitario perché? perché tutte le esperienze tutte le informazioni provenienti dall'esterno vengono filtrate attraverso questa nuove dinamiche con cui funziona la psiche del malcapitato vi ho parlato di tecniche del blocco del pensiero e queste permettono di fermare il flusso di elaborazione cognitiva cioè appena subentrano degli elementi non in linea con l'indottrinamento acquisito immediatamente scatta il blocco del pensiero nei testimoni di Geova o altre associazioni pure io ho conosciuto personalmente ma è pieno di testimonianze su internet madri che hanno ripudiato i figli o viceversa cioè se il figlio cominciava a ragionare di testa propria la mamma non è che si poneva il fatto di dire ma quello è mio figlio c'ho legami di sangue no scattava il blocco del pensiero determinato da queste tecniche manipolative dei testimoni di Geova e il figlio non era più visto come proprio figlio sangue del proprio sangue ma era visto come qualcuno che stava disubbidendo a Geova e che quindi era un rischio per tutta la comunità compresa per la madre stessa e questo è l'indottrinamento che ha degli aspetti veramente terribili che comportano controllo del pensiero controllo del comportamento che poi si rinforza la vicenda perché? perché ogni azione svolta in direzione del condizionamento satanico tende poi a rafforzarlo e il controllo delle emozioni si esercita anche attraverso una manipolazione dei sentimenti e attraverso l'induzione di sensi di colpa se il malcapitato cerca di riaffermare in qualche modo la sua autonomia e la sua libertà interiore e colpa e paura vengono provocati attraverso la forte accettazione dei giudizi critici sul comportamento e sul pensiero e qui c'è proprio il gruppo che si autoalimenta se qualcuno ha fatto qualcosa che non sta nelle regole del gruppo troverà tutti gli altri che fanno pressione psicologica per restabilire l'indottrinamento nell'iniziato e quindi questo stile dicevo relazionale che è totalmente asimmetrico non si parla mai da pari a pari e da lì vengono la concezione del bene e del male anche i comportamenti giusti o sbagliati vengono inculcati nel satanista tipico l'odio verso i genitori l'allontanamento da figure significative come parenti amici colleghi a meno che questi non si riescano ad inserire nel gruppo satanico e questo odio nei confronti dei genitori è parte dell'indottrinamento rientra in pieno nelle attività di manipolazione delle emozioni come il controllo delle informazioni anche che avviene esercitando una continua supervisione sulle informazioni a cui possono avere accesso nella psicosetta dei testimoni leggevo ad esempio è totalmente vietato è vietato perfino andare all'università perché le informazioni devono essere unicamente quelle e solo quelle che sono inculcate nella mente di questi poveri malcapitati che non devono avere opinioni proprie nel caso dei satanisti devono continuamente rifarsi alla guida satanica e a tutta questa ideologia perversa che è una vera e propria religione il satanismo continuerò nel prossimo video della playlist chi vuole può fare una piccola offerta al decimo toro che lavora dalla mattina presto alla sera per voi un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo